Ciao, sono Marco e nel video di oggi andremo a vedere un tema child per Divi chiamato Digital Agency. Nelle video precedenti, che trovi in parte suggeriti qua sopra e gli altri all'interno del mio canale, siamo andati a conoscere uno tra i più popolari temi per WordPress, appunto Divi. Siamo andati a esplorare il suo sito, abbiamo visto quali sono le sue future, quindi come è composto. Abbiamo provato live il suo compositore, quello che serve per costruire le pagine di questo tema, quindi le pagine del nostro sito. Ci siamo poi soffermati su quelli che sono i layout, sulla vasta libreria messa a disposizione dei Divi dei layout, che si possono importare con pochi semplici clic. Abbiamo visto come si può importare un singolo layout e quindi avere una nuova pagina di template pronta all'utilizzo, oppure utilizzare pacchetti interi di layout per avere di fatto un sito quasi pronto all'uso. Poi successivamente ci siamo spostati su quello che è il marketplace, quindi per vedere quelli che sono strumenti, in questo caso temi, child o plugin, messi a disposizione da autori di terze parti, quindi altri autori, altre agenzie o freelance che hanno sviluppato prodotti laterali appunto a Divi. In questo video andiamo quindi a vedere questo tema child agency, digital agency, che appunto può andare a ricoprire una nicchia di mercato e possiamo comunque costruire un sito grazie a questo tema child. Direttamente dalla home page ufficiale del tema Divi, troverai comunque poi il link qua sotto in descrizione, andiamo a vedere quello che è appunto il marketplace di Divi, stiamo osservando la categoria dei più venduti per quanto riguarda i temi child e andiamo a vedere quello che è il tema child per oggi appunto digital agency. Andiamo a vedere questo tema, nel dettaglio questo tema child ha un costo di 14 dollari e 99, possiamo utilizzare questo tema in qualsiasi sito noi vogliamo, quindi non abbiamo limiti di licenze di utilizzo, abbiamo compreso in questo prezzo un anno di supporto e aggiornamenti. Andiamo a vedere quali layout sono messi a disposizione, come è composto un po' questo tema child, abbiamo layout per la home, per le about, per i services, per i project, contact us e per il singolo progetto. abbiamo più di 15 moduli e animazioni precostruite da poter utilizzare, le andremo a vedere tra poco nella demo. Abbiamo diverse future da poter utilizzare, quindi un layout per esempio per le recensioni degli utenti, diversi effetti, un modulo per l'iscrizione alla newsletter, l'integrazione con font Eveson per esempio e molto altro. Direi di non perdere ulteriore tempo e andare quindi a vedere quella che è la demo live di questo sito, di questo tema child di fatto. Andiamo a vedere direttamente questa demo, abbiamo subito il menu, andiamo un attimo in quella che è la home page, quindi l'home page è costruita con una bellissima immagine di apertura in full screen, come potete vedere infatti anche il menu e tutto leader diciamo è trasparente, abbiamo il nostro logo, quindi il nostro brand sulla sinistra, il menu sulla destra e il contact us subito anche qua sulla destra. Abbiamo poi altre informazioni come social, numero di telefono e email in alto a destra nella parte diciamo fissata. Appena scrolliamo naturalmente la parte di menu diventa in chiaro. Nell'immagine di apertura inoltre abbiamo un testo con un'animazione che è quella per esempio del cursore che attende per digitare, abbiamo subito due bottoni che possono richiamare subito a call to action, possono mandare a determinati link o decideremo poi noi cosa fare di questi bottoni. Immediatamente sotto abbiamo una sezione suddivisa in tre box, come potete vedere abbiamo anche degli sfondi sul grigio un po' più scuro. Abbiamo gli effetti over su ognuno di questi box, questi box possono essere per esempio utilizzati per i servizi, non lo so, o per dare qualche informazione ai nostri utenti su quello che è il nostro sito per esempio. Viene riproposto il nostro brand, abbiamo poi un'altra sezione suddivisa di fatto in due blocchi, il blocco di sinistra e il blocco di destra, entrambi hanno titoli del testo e anche la possibilità di avere dei bottoni dove magari possiamo appunto già rimandare l'utente a richiedere un preventivo o altre informazioni per esempio su quelli che sono sempre i nostri servizi o il nostro modo di lavorare. Abbiamo un'altra sezione ancora suddivisa a metà con sulla sinistra un'immagine di sfondo e sulla destra quelle che possono essere magari le nostre skill o i servizi sempre danno offerte e decidiamo poi noi sempre cosa mettere all'interno di queste sezioni. Abbiamo il counter con quelli che sono un po' di numeri di quello che magari abbiamo fatto, quindi quali sono magari i nostri clienti, quanti sono i lavori che abbiamo svolto o altre tipologie insomma di contatori che vogliamo inserire. Abbiamo una sezione come quella di sopra suddivisa a metà, abbiamo una sezione poi in, come si può dire, con l'ombra, con lo shadow, quindi con un effetto shadow, quindi risalto, che inizia di fatto a mostrare quelli che sono i nostri appunto progetti, quindi le nostre realizzazioni. Abbiamo un carousel da poter mostrare, su ogni immagine abbiamo da poter inserire del testo e un bottone con magari dettaglio e informazioni aggiuntive. Nella parte di destra ovviamente abbiamo una prima descrizione, una prima presentazione di quello che è stato il progetto che abbiamo sviluppato. Andando sotto abbiamo un progetto esattamente speculare a quello precedente, quindi abbiamo il testo e la presentazione sulla sinistra e l'immagine con il carousel o senza carousel, se abbiamo un'immagine sola, come in questo esempio, sulla destra. Abbiamo una sezione parallax con un testo che possiamo aggiungere, diciamo, e andando poi a chiudere questa sezione in quella che è la call to action, di fatto, e quindi l'iscrizione alla newsletter. Abbiamo ancora una sezione come quella vista già in precedenza, con suddivisa a metà con il titolo e descrizione, divisa a destra e a sinistra. Qui abbiamo un'altra sezione con delle immagini che probabilmente vengono messe in full screen, sempre di quelli che possono essere i nostri progetti che abbiamo sviluppato. Abbiamo una sezione con quelle che sono le testimonianze dei nostri clienti e un bottone per andare a vedere tutte le altre recensioni. Infine abbiamo quelli che sono magari i brand, i nostri clienti, insomma, che abbiamo trattato e arriviamo, direi, con quella che è il footer della pagina, dove abbiamo la possibilità di richiedere un preventivo o di compilare la forma di contatto per mettersi in contatto direttamente con l'azienda. Abbiamo di nuovo il brand riproposto e infine suddiviso in quattro colonne quello che è il footer vero e proprio, con alcuni link utili, con i social e un po' di testo. Arriviamo poi a quello che è il copyright, diciamo, la parte relativa al copy, in fondo alla pagina. Ritorniamo a quello che è il menu iniziale, andiamo a vedere la pagina delle about us, quindi abbiamo anche qua una sezione in apertura con un'immagine in apertura, questa volta non è full screen. Abbiamo sempre il nostro brand riproposto a metà tra una sezione e l'altra. Abbiamo un altro blocco di testo, come abbiamo già visto prima, suddiviso a metà, sinistra e destra. Qui abbiamo un'altra sezione similare a quelle già viste in un page, quindi abbiamo un testo introduttivo, diciamo, su uno sfondo colorato sulla sinistra con appunto del testo e un bottone e una suddivisione magari di quelli che possono essere, non so, i nostri obiettivi raggiunti o quelli che possono essere magari una timeline della nostra azienda, per esempio, o come lavora la nostra azienda. Successivamente abbiamo delle barre di progresso per quanto riguarda le skills. Abbiamo di nuovo la suddivisione del team con un testo introduttivo e ogni box per ogni persona, quindi abbiamo una persona del componente del team con foto, nome, che ruolo ricoperto e una descrizione e i link social. Questo per ogni persona. Poi abbiamo, diciamo, un quote, quindi sul sfondo fisso, non parallax, abbiamo una quotazione, quindi un quote, un testo magari motivazionale o altro per, diciamo, quello che descriverà un po' la nostra azienda e arriviamo poi a quello che è il footer. Andiamo a vedere quelli che sono i servizi, quindi la pagina services. Abbiamo questa apertura sempre con leader e il nostro brand a metà tra le due sezioni. Qua abbiamo un testo un po' introduttivo su quello che facciamo, la spiegazione dei nostri servizi e altri contatori su quelli che sono i nostri processi di lavoro, quindi, non so, magari la ricerca, la costruzione del prodotto e lo sviluppo vero e proprio del prodotto. Poi questo ovviamente è da adeguare sempre tutte a quelle che sono le tue necessità. Altra sezione, sempre con i due testi, suddivisi a destra e a sinistra, con altri servizi, diciamo, più specifici, magari spiegati un po' più nel dettaglio. Andiamo a vedere i project, quindi quelli che sono i progetti. Abbiamo sempre lo stesso leader e qua abbiamo un testo introduttivo su quelli che sono poi i singoli progetti. Abbiamo per ogni progetto l'immagine e una descrizione. Andiamo a vedere se è disponibile anche il singolo progetto, sì, vediamo se... e possiamo vedere il singolo progetto dove abbiamo un testo iniziale, abbiamo un'immagine sulla sinistra e un testo sulla destra, magari su quello che era all'inizio del progetto, quelli che erano gli obiettivi da raggiungere, e sotto il testo e delle immagini delle gallerie, magari su come è stato sviluppato, su come sono stati raggiunti gli obiettivi di questo progetto e una parte finale su come è andato, su come si è concluso quindi questo progetto. Bene, direi che abbiamo visto questo tema Child Digital Agency che riguarda propriamente appunto una particolare nicchia di mercato, direi che però se la nicchia di mercato che stavi cercando è quella appunto delle agenzie digitali o comunque qualcosa che riguarda il, diciamo, un po' più in maniera larga il web, questo potrebbe essere il tema Child che fa al caso tuo. Bene, mi auguro che tu avessi trovato utile questo video, se comunque hai dei dubbi o hai delle domande, lasciamelo scritto qua sotto nei commenti in modo tale che io possa esserti d'aiuto per quanto possibile. Se ancora invece stavi cercando qualche approfondimento relativo al mondo WordPress, WooCommerce, temi, plugin, Elementor, e spulciando all'interno del mio canale non hai trovato quello che cercavi, lasciamelo anche questo scritto qua sotto così che magari io possa trovare qualche altro nuovo spunto o qualche altra nuova idea e avere qualche altro video di informazione proprio come quello che hai visto adesso. In ogni caso, comunque, se questo video ti è piaciuto metti mi piace, attiva la campanella qua sotto e seguimi nei prossimi video. Ciao!